zio hack del 1998 il numero uno del miglioramento personale underground eccoci qui lo scorso mese avete avuto le caramelle il regalino con la che ne ha sul sesso che proseguirà presto e dobbiamo parlare presto di nella prossima puntata di longevità ma nel mezzo adesso dobbiamo fare quello che tecnicamente si dice farci il culo primo fuffarolo perché metterci i titoli anche le cose che uno ha fatto oggi è pericoloso bisogna valutare l'informazione che c'è e sul discorso neuroscienze c'è gente molto brava che a mio parere fa intrattenimento su trivialità ecco questo è un corso tre in uno perché non abbiamo tempo da perdere voglio parlare di longevità che per me è molto molto più interessante vista la veneranda età però quindi tecniche parliamo sempre il mio focus è sempre da 24 anni tecniche pratiche pragmatiche basate su ricerche quindi è quando la ricerca viene ingegnerizzata in qualche modo in tecnologia o in questo caso in protocolli e quindi vedremo tecniche derivate appunto da ricerche neuroscientifiche recenti non di 50 anni fa non di 30 anni fa non di 10 anni fa ma dell'anno scorso per migliorare alcune quelle sul mindset sono più vecchie per migliorare il mindset però sono più vecchie ma non sono tutte conosciute o interpretate nel modo giusto che può essere utilizzato atteggiamento mentale punto di vista su stress salute sono movimento nutrizione prestazioni quindi parleremo dell'inner game in sostanza della longevità e poi nella prossima puntata parleremo dell'outer game cos'è l'outer game saranno tutte le strategie specifiche e le tattiche anche quindi strategie lungo termine tattiche breve termine per rimanere longevi tirare questi dieci anni in cui avremo se tutto va bene se non ci annientano se in modo naturale naturale c'entra avremo la medicina del futuro che è già qua e li potrei farci anche lì delle puntate ma una roba troppo sofisticata però ecco nella prima parte quindi faremo tre parti ho detto allora appunto il mindset atteggiamento mentale perché qualcuno non ha neanche capito che cos'è e ne parlano insegna poi parleremo di psicologia neuroscienza degli obiettivi con tre protocolli nuovi nuovi usciti adesso praticamente in italia adesso nessuno ne ha ancora parlato che hanno a che fare con appunto questi tre protocolli hanno a che fare con due col creare abitudine uno col disfare abitudine sono diverse dalle micro abitudini che ho parlato tanto tempo fa e infine parliamo di neuroscienza delle abitudini quindi abitudini obiettivi atteggiamento mentale più importante è l'atteggiamento mentale e quindi parleremo di una ricercatrice allieva di una grandissima ricercatrice di quelle non siamo degni non siamo degni quei pochi casi in cui non è il titolo ve l'ho detto eliminiamo i titoli grande sono un fuffarolo eliminiamo tutto state ascoltando un fuffarolo però che sta sulle spalle dei giganti cioè su ad esempio in questo caso la mitica elen langer che è un professore associato in psicologia direttore del my modi lab di stanford quindi qui parliamo di una sua allieva parliamo di queste ricerche che hanno fatto e di come l'atteggiamento mentale quindi qui presupposti che abbiamo va a generare delle delle cose molto interessanti nel nostro corpo quindi su parametri misurabili qualcuno ci ha già provato come la amica di col power posing con poco successo studi non replicabili invece questi reggono reggono e quindi parleremo di come l'atteggiamento mentale determina una risposta molto specifica nel nostro corpo che apre anche a potenziali discorsi fuffaroli molto fuffaroli ve lo dico parleremo di come sfruttare la mentalità nella nutrizione della dieta basata su una sua ricerca che vi descriverò nei dettagli parleremo di esercizi ad effetto placebo che è una delle più cose più sconsertanti che ha fatto la langer ma io non ho sentito parlare ma nessuno ne ha parlato secondo me facendo capire che cosa veramente ha fatto parleremo anche di di sonno deprivazione sono effetti sulla mentalità parleremo di come mentalizzare quindi come interpretare come vedere il punto di vista sullo stress per il nostro bene tutto in modo molto pratico quindi con cose che puoi applicare subito e come sfruttare appunto lo stress a nostro vantaggio un esercizio che ho e poi parleremo di intersezione tra mentalità e medicina e esercizi per allenare il mindset e via vi do la sintesi e vi accenno al potere più grande l'atteggiamento più potente per aprire la neuroplasticità e questo con questo chiuderemo la prima parte poi anche se andrò sforerò dall'ora promesso ogni mese in cui concentro le duecenti passa ore di studio senza contare la lettura solo di ascolti di podcast di video di youtube di tutte queste cose ogni ultimamente non ascolto più corsi commerciali non so però come mai oramai c'è quasi tutto gratuito per fortuna su youtube quindi poi parleremo della neuroscienza e la psicologia degli obiettivi dei tre percorsi neurologici importanti perché ok darvi delle tecniche però se capite un attimo cosa c'è dietro alle tecniche è meglio quindi parleremo poi dei due spazi per il personale e l'extrapersonale e come ancorare l'attenzione con i multitasking alcuni consigli sull'uso della vista il campo visivo perché sono gli occhi sono la parte più esterna del nostro cervello sono il nostro cervello dimensionamento giusto degli obiettivi perseguimento specificità degli obiettivi dopamina errore previsione di compensa e quindi poi vi riassumo tutto questo e parliamo degli obiettivi infine infine non so se ce la faccio ma parliamo delle abitudini come ho detto tre protocolli pan belli secchi due programmi che funzionano meglio se combinati che sono appena usciti appunto negli stati uniti ma immessi in italiano come sempre io mi rivolgo a gente che vuole investire per il proprio miglioramento personale scientificamente basato per avere uno spunto in più su tutto sulla vita sulle persone intorno per aiutare i propri cari eccetera quindi se uno non vuole investire in questo ascolti gli audio gratuiti c'è tanta formazione in giro io sento tanta formazione su una neuroscienza che ripeto per me la considero un po' triviale cosa vuol dire triviale vuol dire che sono informazioni utili se devi fare una partita trivia per sui con gli amici ma a me interessa la pragmaticità penso se non fossi la rincarnazione di sant'ommaso per lo scetticismo probabilmente sarei anche quella di william james per la pragmaticità quindi pragmatismo estremo quindi come fare i protocolli per creare e formare grandi abitudini rompere cattive abitudini è contro l'intuitivo è stato già provato comunque da gente negli stati uniti lo proviamo anche noi in italia non ci sono è basato su ricerche ma su questi protocolli non ci sono ancora le ricerche però è facile si fa facilmente è proprio quel protocollo che rende facili creare le abitudini ricordatevi che quello che c'è dietro tutto questo quindi sia le abitudini che gli obiettivi è il giusto atteggiamento mentale che include anche il giusto stato d'animo il giusto modo di pensare il giusto modo di vedere le cose quindi il tema principale sarà l'atteggiamento mentale e poi voglio buttarci lì dentro perché secondo me sono aggiornamenti troppo importanti che i miei clienti non possono mancare ma a tutti gli altri che non si iscriveranno mancheranno e sono cavoli vostri sceglietevi la formazione che meritate concentrati concentrati sulle figurine che saranno importanti in futuro perché gli smart contract concentrati sugli nft lasciate stare la salute concentratevi solo sul collezionismo lasciate stare la salute lasciate stare le relazioni lasciate stare l'aspetto vero che fa diventare finanziariamente sani e vediamo tra cinque anni come siete messi noi continuiamo così chi vuole si iscrive c'è il link prima accademia italiana lo so che sembra fuffaroli ma è così minchia io sono online dal 98 mi chiamo zioc da qualche anno dopo prima di tutti quelli che sono fatti chiamare zii e se non ci credete andate su web archiv e cercate e se non ci credete tanto potete essere i miei migliori amici perché è giusto essere molto 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 scettici e fare le proprie ricerche però non è giusto essere caproni testardi l'abilità più importante che abbiamo è quella di apprendere dobbiamo diventare dei guerrieri dell'informazione dobbiamo essere accaniti nel studiare libri informazione di qualità la cosa importante non è quanto non è 200 ore al mese che non ha senso per la maggior parte delle persone è la qualità cioè un'ora di qualità ne batte 10.000 cose ma non è la cosa più importante non è apprendere la cosa più importante la cosa più importante è disapprendere per ricerca di harvard la maggior parte delle persone dei medici dopo un anno e mezzo che guarda caso coincide con la legge di moore della crescita esponenziale è obsoleta perché ogni anno e mezzo raddoppia e cambia la qualità delle informazioni quindi è importante disimparare e reimparare ripensare alle cose quindi l'opposto del miglioramento continuo è essere dei caproni testardi quindi se la vostra informazione viene da facebook sono cazzi vostri ragazzi un abbraccione vi voglio bene lo stesso e vi saluto alla prossima grazie per aver ascoltato fino qui se ti interessano gli argomenti del miglioramento personale scientificamente basato life hacking bio hacking integratori benessere psicologico apprendimento neuroscienze transpersonalità segui lo zioac in ogni suo canale digitale ciascuno con contenuti gratuiti e unici in particolare su telegram trovi molti audio esclusivi cerca queste quattro lettere senza spazi zio con h di hotel su telegram visita il suo sito migliorati.org